Cerchiamo di capire come funziona nel mondo della moda. Nel mondo della moda funziona come in tutti gli altri settori, solo che per la maggior parte delle persone non è immediato vederlo perché, tornando a quello che abbiamo sempre spiegato e per chi è nuovo lo rispieghiamo, nelle aziende esistono due grandi momenti. Questo è un momento nel quale l'azienda deve decollare, quindi si chiama utilizzare delle strategie specifiche per fare decollare l'azienda. Poi quando l'azienda è in quota, si dice come l'aero, quando l'azienda è arrivata in quota si possono utilizzare ovviamente anche altre strategie, cioè quando il mio brand è diventato estremamente famoso posso utilizzare, con un senso in particolare per la moda in altri settori, anche un po' meno se fosse possibile, tutta una serie di altre accortezze. Quindi abbiamo delle strategie che servono per decollare, delle strategie che servono per stare in quota. Qual è l'errore che fanno tutti coloro i quali oggi analizzano i brand di moda? Semplicemente guardano quello che fanno, entrano in uno store Armani, Whitton, eccetera, eccetera, qualunque esso sia, si guardano intorno e dicono ah vedi loro cosa fanno e quindi significa che no, questo è il modo sbagliato di ragionare. In realtà l'unico modo corretto per guardare, anzi qualunque brand, non è guardare quello che fa oggi quando ha cent'anni, ok? Cioè brand come, che ne so, Hermès, Yves Saint Laurent, cioè hanno più di cent'anni questi brand, cioè di cosa stiamo parlando. Io in realtà devo andare a guardare cosa tutti questi brand hanno fatto per diventare famosi, non cosa fanno oggi che sono una multinazionale, ma la domanda che mi devo fare io da piccolo imprenditore è la domanda al contrario, intelligente. Cioè queste aziende come hanno fatto ad arrivare ad essere delle multinazionali? Cioè quando erano una piccola selleria che faceva selle di cavallo dentro una stalla, da lì ad arrivare a diventare grandi, come hanno fatto? Questa è la domanda che mi devo fare, ok ragazzi? E vale in qualunque settore in realtà, agricolo, in qualunque settore, ok? Io devo sempre farmi questa domanda quando guardo i grandi brand, quando guardo le grandi aziende, cioè mi devo chiedere, ma queste grandi aziende, cioè sono nate così? Cioè sono nate con tutti questi prodotti in vendita? Oppure sono nate in maniera diversa e poi nel tempo in realtà magari hanno ampliato la gamma? Perché? Perché loro rifanno tutti e entrano dentro uno store di Armani, no? Si guardano intorno e dicono, cazzo però, Armani non è che fa solo i vestiti da uomo, fa anche i vestiti da donna. Cazzo però, non è che fa solo i vestiti da uomo e da donna, fa anche le cinture. Cavolo però, non è che fa solo anche le cinture, fa anche le scarpe, va avanti così, fa anche i borselli, fa anche i fazzoletti, fa anche le cravate. E quindi uno guarda e dice, cavolo, ma quindi qui fanno tutto per tutti in realtà, quindi non esistono regole, oppure qui la regola del posizionamento di marca non funziona. In realtà non è così. Quindi quello che bisogna fare, ragazzi, è studiare un po' la storia. Io ho recuperato per voi, in maniera didattica, alcune informazioni, ve le faccio vedere in modo che voi possiate capire come sono nati realisticamente questi brand. Vi faccio vedere la differenza tra brand storici, tra l'altro che hanno un posizionamento acquisito in più di cent'anni di storia del brand, e come sono nati invece brand più recenti. Noi brand, quando eravamo magari ragazzini miei, io, cioè noi, i miei coetanei, vi ricordate, erano ragazzini, c'erano i paninari, tutte quelle cose di tutti i brand e i paninari, dopo li vediamo, o brand ancora più giovani che sono nati intorno agli anni 2000, come la Guru di Matteo Cambi, per chi se la ricorda, eccetera. Quindi c'è una differenza tra quello che si poteva fare, possiamo condividere, ragazzi, che quello che si poteva fare cento anni fa, quando determinati brand nascevano, oggi non si può più fare, perché molte nicchie, tra virgolette, molte categorie sono prese. Quindi oggi dovrò utilizzare delle strategie ancora più focalizzate e ancora più specifiche, se voglio andare a conquistare un determinato mercato. Ma andiamo insieme a vedere un pochino come funziona questa situazione. Allora, vediamo un po', cerco di farvela vedere. Allora, vediamo se riesco, allora passiamo da qua. Ok, allora Yves Saint Laurent, partiamo dall'analisi del brand Yves Saint Laurent. Quindi Yves Saint Laurent è un brand famosissimo ed è uno spin-off, in realtà, di Dior. Cioè, il signor Yves Saint Laurent era uno degli stilisti di Dior che poi si è messo in proprio, praticamente. Quindi questa è la storia. Allora, vediamo quindi come ha funzionato. Allora, il marchio di abbigliamento Yves Saint Laurent ha guadagnato fama iniziale per aver rivoluzionato la moda femminile. Attenzione, Focus ha rivoluzionato la moda femminile. Che cosa vuol dire? Fondato il couturier Yves Saint Laurent, il marchio divenne noto per aver trasformato, state attenti, elementi del guardaroba maschile come pantaloni e smoking in capi di abbigliamento quotidiano per le donne, contribuendo a un cambiamento significativo della percezione della moda. Cioè, questo è quello che ha reso famoso Yves Saint Laurent. Ha fatto una cosa che non aveva fatto nessuno fino a quel momento e invece che le donne doversi vestire per forza, con il maglione e la gonna, ha detto no, cambiamo quello che è la percezione della moda. Quindi è andato a prendere il guardaroba maschile, i pantaloni, è stato lui, ok? I pantaloni, gli smoking, li ha cambiati e li ha adattati all'abbigliamento quotidiano per le donne. Quindi se oggi le donne si vestono in una determinata maniera, deriva dall'influenza enorme di questo stilista che ha fatto questa roba qua. Quindi questi cambiamenti includevano anche l'adattamento di costumi nazionali, uniformi militari, ok? Investiti più casual, che ha gettato le basi poi per quello che, pensate, le basi per quello che il pret-à-porter è, cioè la moda pronta da indossare, la moda moderna. Quindi pensate che rivoluzione che ha fatto Yves Saint Laurent. Allora, se per voi oggi quando entrate in un negozio di Yves Saint Laurent lo identificate semplicemente come un brand di lusso, giustamente, e non capite cosa fa, è perché non conoscete la storia, cioè non capite che cosa lo ha reso famoso all'inizio. E quindi la focalizzazione di Yves Saint Laurent, cioè lui è diventato famoso per una cosa, cioè per aver rivoluzionato la moda femminile, per aver preso dei capi maschili, ok? Essere andato contro tutto ciò che era le convenzioni dell'epoca, della moda femminile, le ha completamente ribaltate e ha preso questi capi e li ha trasformati, quindi socialmente, in pret-à-porter e capi di uso comune per le donne. Quindi quando voi non capite perché Yves Saint Laurent è un marchio, ovviamente, una mega corporation in tutto il mondo, è perché non conoscete la storia, perché se voi conosceste la storia non vi verrebbe da dire ma Yves Saint Laurent fa anche la Coca-Cola alla ciliegia? Perché capireste, quando questo brand non esisteva, che cosa lo ha reso grande, che cosa lo ha reso famoso. Cioè la sua strategia per partire da zero e diventare grande è... Allora, due cose dovete capire dei brand di moda. Ragazzi, i brand di moda funzionano per due cose. Uno, si concentrano e vengono lanciati normalmente da un grande capo di abbigliamento che diventa famoso, quindi focus. Un, grande capo di abbigliamento che diventa famoso. Due, quindi non partono con un'ampia gamma di prodotti normalmente. Un, grande capo di abbigliamento che lo rende iconico, ok? Quindi il capo di abbigliamento iconico di questa casa di moda, ok? In origine qual era? Due, il brand diventa e rimane famoso se in realtà comunica, cioè combatte socialmente per contravvenire a delle convenzioni. Quindi non basta, come vedremo dopo, fare la maglietta con la margherita e regalarla a Bobo Vieri, ok? Cioè non è sufficiente perché dura il tempo della stagione estiva a Milano Marittima e poi finisce là, perché? Perché non c'è niente di socialmente rilevante che renda questo brand desiderato, ok? E famoso e grande nel mondo. Quindi sono i grandi brand, sono stati, al di là di quello che fanno oggi, che sono delle multinazionali con dei ragionamenti diversi, sono diventati famosi, quello che importa noi quando c'era il creativo originale, no? Che lo ha creato, andando contro a delle convenzioni molto radicate, questo che ha reso famoso in brand. Ok? Yves Saint Laurent è famoso per questo. Vediamo Dior, brand originale. Allora, Dior è diventato famoso inizialmente per la creazione del New Look nel 1947 e perché nel 1947 cosa è successo? Ragazzi, era appena finita la guerra e quindi in tempi di guerra immaginate che grande moda femminile ci poteva essere. Quindi Dior è stato uno stra-precursore, ovviamente, ok? Questo stile, lanciato con la sua prima collezione, ha rivoluzionato la moda femminile del dopoguerra. Quindi socialmente che cosa ha fatto? Ha detto, le donne, basta, è finito il periodo della tristezza e dei sacchi cazzi messi addosso, bisogna tornare a essere belle. Questo è il messaggio di Dior. Quindi come con il vestito caratterizzato dalla siluetta clessidra. Quindi il simbolo di Dior è il vestito femminile nel dopoguerra con la siluetta clessidra. Cioè, gonne ampie e lunghe, vita stretta e spalle morbide. Quindi il New Look, questo ha creato Dior, è diventato famoso per questa roba qua. Non mi interessa cosa vende oggi, ok? Quello che vende oggi, quando entrate in negozio, non lo voglio neanche sapere, ok? Io so che lui è diventato, non ha avuto culo, ok? Cioè, non ha avuto culo, non è caso e non c'è niente di questa roba qua quando analizzate il brand positioning di tutte le aziende del mondo. Questo si è rinventato, ok? Quindi New Look ha segnato una netta rottura con le mode austere e utilitaristiche del periodo bellico. C'era la guerra e lui ha deciso di rivoluzionare il settore della moda femminile tornando ad avere questo stile opulento, eccetera, eccetera. Quindi la sua visione glamour e ultra femminile ha riacceso l'amore per la moda di lusso e l'haute couture riaffermando Parigi come capitale mondiale della moda. Dior è stato celebrato per aver riportato l'eleganza e la femminilità nel guardaroba delle donne influenzando profondamente il design della moda negli anni successivi. Quindi capite che Yves Saint Laurent, che è uno spionante... Oggi voi magari non capite nemmeno perché sono diversi nei negozi, ma Dior nasce per riportare la visione glamour e ultra femminile. Questo è il posizionamento di Dior, ok? Yves Saint Laurent fa un'altra cosa. Ha preso i vestiti maschili e li ha resi moda di tutti i giorni. Quello è il suo posizionamento per le donne. Quindi entrambi sono partiti come brand femminile, innanzitutto quindi focalizzato per le donne, ma uno nasce per esaltare la visione glamour e ultra femminile delle donne di Dior e il suo spin-off invece ha fatto il contrario. Cioè Yves Saint Laurent, che sarebbe la Pepsi di Dior, in realtà ha fatto esattamente una strategia corretta e quella della Pepsi. Non si è messo a copiare quello che aveva imparato dalla sua Maison di base e ha fatto Christian Dior 2. No, è andato completamente al contrario. Ha detto Christian Dior fa i vestiti iper sexy, ultra femminili, tra virgolette, glamour, eccetera, eccetera. Io invece prendo dei capi maschili e li trasformo in abiti femminili. Capite ragazzi qual è il ragionamento che c'è? Capite che sono due posizionamenti di marca completamente differenti, però dovete studiare la storia. Il brand positioning è studiare la storia, non ha nulla a che vedere con le sciocchezze che sentite dire in giro. Ok? Ora, vediamone qualcun altro. Ah no, ok, se ci siete ragazzi, magari, se volete studiare queste cose in maniera un po' approfondita, angolo della pubblicità, c'è il libro, c'è il libro più importante per il posizionamento di marca, quello più aggiornato che abbiamo scritto a sei mani, io. Qui ci sono le ultime ricerche, gli ultimi studi disponibili di Orris che sono stati messi dentro a questo libro, che è stato scritto da lui con Laura, e io ho fatto una, diciamo, abbondante prefazione, mi hanno chiesto di fare un'abbondante prefazione. E quindi ci sono tanti, quindi i concetti più aggiornati al mondo sul posizionamento di marca, li trovate nelle sette leggi del marketing per il ventunesimo secolo, ok? Se andate nella chat, mi sembrava di avervelo messo, provo a rimetterlo, e poi lo incollerò sotto YouTube, ok? Eccolo qua, dovrebbe arrivarvi, quindi se ancora non l'avete, prendetelo. Poi in YouTube, nella descrizione al video, dopo quando lo sistemo, lo aggiungerò. Allora, ancora, Giorgio Armani, il posizionamento di Giorgio Armani. Perché Giorgio Armani è diventato famoso? Per il motivo molto semplice, molto chiaro. Allora, Giorgio Armani è diventato famoso inizialmente per il suo approccio rivoluzionario al design della moda maschile. Quindi prima avevamo dei brand che si focalizzavano prevalentemente sulle donne, Giorgio Armani, in nuce, nasce con un approccio invece rivoluzionario alla moda maschile. Ma come? Con quali cose, con quali capi di abbigliamento? Eccolo qua. Emergendo negli anni 70, Armani ha guadagnato fama per il suo stile elegante ma minimalista, quindi questo è il suo posizionamento, caratterizzato dall'uso di tessuti morbidi e della destrutturazione delle giacche e dei blazer tradizionali. Il capo di abbigliamento top principe che ha posizionato Armani, ragazzi, è il blazer destrutturato. Cioè, Armani è quel cazzo di blazer destrutturato. Tutto quello che trovate nel suo negozio esiste perché lui si è inventato il blazer destrutturato. Mettetevela via. Se non ci fosse stato quel blazer destrutturato e se a partire dal blazer destrutturato lui non avesse continuato a perseguire quest'idea della moda in realtà... Cioè, che cosa ha fatto Armani? Adesso lo vediamo, magari l'ho scritto. Questo stile ha offerto un'alternativa più rilassata e confortevole rispetto ai classici abiti da uomo rigidi e ben strutturati pur mantenendo una silhouette raffinata e sofisticata. Cioè, Armani ha detto basta cazzo che l'eleganza è solo per chi si mette lo smoking o il fracco o i vestitoni rigidi. Cioè, uno deve essere bello investito in abito elegante tutti i giorni. Quindi io creo una silhouette che è sempre raffinata e sofisticata ma anche più rilassata perché tu devi andare in giro cazzo, devi sentirti bene in giacca, in abito, in vestito, in giacca e gravata tutti i giorni. Quindi, è stata una rivoluzione epocale quella che ha fatto Armani. Non è fai vestiti come tutti gli altri. Poi oggi non lo so che cosa facciano dentro i negozi di Armani. Non ci vado. Ok? Però quello che ha reso Armani l'icona... Perché lui si è inventato la moda maschile se l'ha inventata lui. Ok? Cioè, lui si è inventato che te devi andare in giro elegante non come uno straccione tutti i giorni. Poi oggi, chiaramente, il suo messaggio un po' sta perdendo, no? Perché la gente va in giro con le braghe appoggiate sotto il culo, anzi, una volta sotto il culo con la giovane, io adesso c'hanno le braghe alle caviglie, non so dove cazzo dovete andare questi pantaloni qua, ma in generale Armani ha fatto sta roba. Ok? Quindi, Armani è noto per aver introdotto uno stile di abbigliamento che mescola il formale con il casual rendendo la moda di alta qualità più accessibile e adatta alla vita quotidiana. Cioè, Armani è un genio, cioè lui è diventato Armani perché è un genio, cioè quello che voi vedete oggi nei negozi che poi si sono diversificati, c'è Emporio Armani, Armani non mi interessa, Armani è diventato famoso perché ha preso la moda maschile e ha detto tu devi essere elegante tutti i giorni, prima cosa, due, il suo prodotto iconico e il blazer destrutturato. Quando voi avete capito queste due cose, cioè il messaggio sociale e il prodotto di punta che l'ha spinto, noi abbiamo finito, abbiamo finito di parlare di brand position, finisce, qua lui è diventato Armani per questo motivo. Ancora, vediamo, Gucci, ok, Gucci, ma chi è il leader delle borse, ma non mi interessa, cioè voi dovete capire, non c'è il leader delle borse, c'è il leader di uno stile, c'è un leader di uno stile di abbigliamento, c'è un leader di uno stile di giacche, Armani farebbe estensione di linea se si mettesse domani a fare le giacche alla diseguale, rosse e verdi con le toppe a fiore, ma finché lui crea capi di abbigliamento che seguono la filosofia che lui ha lanciato, come Yves Saint Laurent, può lanciare tutti i capi di abbigliamento che vuole, non fa estensione di linea, finché rimane, perché la sua linea è la filosofia con la quale ha lanciato il brand e la quale rimane fedele nel corso dei decenni, quello non è Yves Saint Laurent caldaie, se fa le caldaie poi è l'estensione di linea, Yves Saint Laurent divani, magari ci sono, non lo so, magari ci sono anche le cose che dico, però è già un po', ha già un po' meno senso, ok? Ma finché io creo capi di abbigliamento che mantengono la mia filosofia, non sto facendo estensione di linea, sto aumentando la gamma dei prodotti in realtà, ma il mio posizionamento è la mia filosofia di moda, è questo che dovete capire, ok? Quello è il posizionamento di un brand. È chiaro che se tu tradisci il brand, quindi tradisci il tuo posizionamento, quindi tradisci la tua filosofia, è chiaro che ti allontani da quello che stai facendo e quella è estensione di linea, ok? Ma non perché tu fai la cintura Armani e allora quella è estensione di linea. Ah, vedi, lui non fa solo le giacce, non è che puoi campare solo col blazer destrutturato, ci dovrai mettere anche Ducazzo dei pantaloni, no? Se hai pantaloni, la cintura la puoi fare e poi tutti voi sapete, in realtà, se vado per micronicchie, tutti i brand, ognuno ha il suo brand preferito, anche veramente, c'è per i portafogli, io c'è che ne so, io c'ho il brand preferito per il portafoglio, c'ho il brand preferito per le cinture, c'ho il brand preferito per le scarpe, però non è detto che se entro dentro un negozio di Armani, mi faccio il vestito, magari vedo un bel paio di scarpe e lì mi piace, me lo guardo e lo compro, non è che muoio, però se devo andare apposta, non vado dentro al negozio di Armani per cercare le scarpe, ci sono i brand, è vero o no? Ci sono i brand specifici di scarpe, di lusso, sportive, classiche, cioè, nei quali io vado a vedere. Poi, ragazzi, un giorno sto facendo shopping e vado dentro Armani e mi faccio il vestito e vedo una cintura e me la provo, la comprerò, porca vacca. Ci siamo arrivati, ragazzi, cioè questo è il concetto, se arriviamo, ragazzi, dobbiamo sempre ascoltare i fuffari per farci, cazzo, fare confusione nella testa e tutte queste cose qua. Allora Gucci, giusto per capirsi, Gucci ha acquisito Fama Internazionale per i suoi prodotti in pelle, quindi Focus, borse iconiche, due borse, ok? Quindi invece che un prodotto iconico, cioè una borsa, ok? Sono due borse in realtà, quindi la borsa a mano con il manico di bambù e ciò che ha reso famoso Gucci e la borsa a tracolla con il nastro web verde, rosso verde. Questo è, ok? Queste due borse hanno reso Gucci, Gucci. Fine, ok? Fine. Focalizzazione sulla pelle e gli altri invece facevano altre cose, la moda, il blazer, il vestito, Gucci ci focalizza sulla pelle e in particolare all'inizio è focalizzata sulle borse. Due borse iconiche che la rendono famosa. In particolare l'azienda è stata la prima casa di moda a sperimentare con materiali non tradizionali come la tela durante la carenza di materiali post bellica. Anche loro, vedete, dalla guerra cambiano, eccetera, eccetera. È un po' come la Nutella che è stata fatta con le nocciole più del cacao perché il cacao in tempi di guerra non arrivava, ok? Gucci è la Nutella delle borse, ok? Quindi unendo la tela con il logo GG, ok? Il logo della Gucci, ok? e che è diventato un simbolo distintivo del marchio. Adesso leggo. Davide Palermo dice Ciao Frank, farete un video di questa tipologia anche sulla cosmetica? Grazie. No, perché devi capire il concetto. Non te lo faccio il video sulla cosmetica, l'ho spiegato all'inizio. Cioè, voi dovete imparare ad astrare i concetti, ok? Sono uguali in ogni maledetto settore, ok? E se non vi va bene, mi pagate una consulenza e vi faccio il brand io e abbiamo risolto. Così non dovete capire niente. Se no, capite dalle informazioni che vi do, ok? Non è che lo posso fare in tutti i settori del mondo, ok? Qualunque cosa, la cosmetica è identica alla moda, agli stessi principi, è uguale, è uguale, non cambia niente, ok? Basta che prendi le informazioni che ti sto dando, le applici ai vari brand, studi un po' la storia dei vari brand e capisci. In cosmetica, se tu vuoi parte, lo spiego prima, due parole, se tu vuoi partire con e ho fatto la mia linea di prodotti, non la fare la linea di prodotti, non te la compra nessuno, che siano linee di sciampi, che siano linee di creme, che siano sciampi e balsami, che non te la compra nessuno la tua linea, prodotto iconico che rivoluziona una filosofia, se non ce la fai, non lo fa un prodotto di merda tanto per lanciare la tua linea di cosmetica, ok? Se hai bisogno, faremo una consulenza un giorno di branding e ti creerò il brand di successo, se possibile, ok? Se no, amen. Ancora, la combinazione di artigianato, quindi italiano, di alta qualità, dei già innovativi e l'uso di materiale di lusso, hanno contribuito a stabilire Gucci come il marchio di moda e prestigio, uno dei principali simboli dello stile italiano nel mondo. Quindi capite ragazzi cos'è Gucci? Gucci è, nasce, focus, pelletteria, in particolare pelletteria, pelle, borse, prodotto, ok? Non di frontend, in realtà, cioè il prodotto iconico, c'era della flagship, si chiama, quindi flagship di Gucci come il flagship di Armani e Blazer è strutturato, flagship di Gucci, la borsa a mano con manico di bambù, ok? e l'altra con il nastro verde-rosso-verde. Questi sono i due prodotti fondamentali, giusto per capirci, se ne volete sapere di più, perché io in realtà, l'altro giorno, c'è Fabio Argento che ha un negozio di moto focalizzato su Ducati, in particolare, tutte moto da strada super sportive, lui ha litigato con tutti perché non vende scooter, non vende monopattini, non vende bici elettriche, non vende moto da cross, lui ha detto io vendo sta roba, quindi quando io ho fatto il video sulla Ducati, si è esaltato, ha detto cazzo, finalmente uno che capisce, uno che mi dà ragione, eccetera, eccetera. E lui ha detto, una cosa carina che mi ha detto, ho detto Frank, non ti offendere, ma si vede che tu di moto non capisci un cazzo come hai detto, ed è vero che io di moto non capisco un cazzo, come è vero che io di moda non capisco un cazzo, ma non è importante, proprio perché tu non capisci in realtà il prodotto, capisci, capendo del marketing, capisci più di tutti quelli che stanno lì tutti i giorni facendosi le seghe sul prodotto, perché? Perché non c'è bisogno di capire il prodotto, anzi, devi capire la mente delle persone, la mente delle persone funziona uguale in qualunque settore, la mente dell'acquirente funziona uguale in qualunque settore, in qualunque nicchia, non cambia mai, non cambia mai, è sempre uguale, ok? E quindi qui, io di moda non capisco niente, vado in giro con la maglia di topolino, questa è, ho la felpa, ho la felpa di Darth Vader, ma che cazzo volete da me? Ok? Io vado in giro così, però se dovete chiedere a qualcuno come si lancia un brand di moda, potete chiedere a me tranquillamente e tranquilli che vi spiego come funziona, non sono un designer di moda, non sono un creativo di moda, so come si diventa ricchi con la moda, che magari è l'informazione che serve a voi, ok? Quindi, su Gucci invece, se volete le informazioni più intelligenti, vi consiglio una persona straordinaria, ok? Una mia amica carissima e anche una mia studente, si chiama Ornella Auzino, che è la persona in Italia che le borse di Gucci le fa, ok? Quindi quando voi andate a comprare una borsa di Gucci, normalmente le fa Ornella, che ha la sua azienda bellissima, italianissima a Napoli, ok? Combatte tantissimo, ha un suo canale che è questo che vedete, quindi se andate su YouTube o se siete su YouTube cercate il canale di Ornella, ok? Perché lei combatte tantissimo, oltre che, ovviamente, produrre roba italiana di grandissima pelletteria, grandissima qualità, cerca di fare questa grande battaglia molto efficace contro i tarocchi, ok? Come li possiamo chiamare, contro i falsi, contro i fake, quindi compra solo borse originali e quindi spiega nel suo canale come riconoscere le borse buone dalle borse, perché, eccetera, eccetera, quindi Ornella è bravissima e se, in realtà, lei fa sempre un sacco di video, quindi se avete delle domande da fare in questo mondo, nel mondo della moda, nel mondo della pelletteria in particolare, perché lei è straesperta nel mondo della pelletteria, andate sul canale di Ornella, rompete le scate, ha detto Frank, nei commenti dei suoi video, ha detto Frank che posso chiedere a te, e gli chiedete le cose, le curiosità su quel mondo, è bellissimo, perché lei vi può svelare, ok? come funziona il retrocedere, Ornella sì che sa, io non so le cose, io so il marketing, Ornella invece sa l'altra parte, sa come funziona, realmente, tutti i segreti, ma anche le magagne, tutto quello che c'è dietro, ne parla, ha proprio il canale che ne parla, quindi se siete curiosi di tutte queste cose, spulciatevi sui video, fatele dalle domande, ok? Perché Ornella saprà dirvi esattamente come funziona questo mondo, a differenza mia che non ne capisco niente. Ancora, Hermès, ok? Hermès Paris. Allora, Hermès è un caso molto particolare, un caso di azienda che ha pivotato in maniera da start-up, è un'azienda iperstoria, il 1800 è dispari, ok? All'inizio Hermès nasce come azienda, pensate, vedete il logo, allora il logo è diventato arancione in realtà a partire dagli anni 80, dopo vi spiego perché prima non era completamente arancione, ma non è quello il punto, vedete il logo che c'è, c'è la carrozza trainata al cavallo, perché? Perché Hermès nasce come brand per finiture, bardature, selle per cavalli, quindi Hermès all'inizio, cioè il signor Hermès era uno che faceva le selle per i cavalli, le bardature, i finimenti, le briglie, faceva tutte queste cose, quindi era pelletteria focalizzata in realtà nell'ambito dell'attrezzatura per cavalli, ok? Poi pivota, comincia a fare altri capi di pelle, eccetera, eccetera, in realtà, ragazzi, considerate che stiamo parlando del mercato, fino all'1800 e se fate caso oggi il suo brand più iconico sono due cose, erata anche lui a due oggetti iconici Hermès, il primo sono i foulard e se vedete nei foulard, nelle fantasie, spesso e volentieri ci sono i cavalli, ci sono i cavalli perché sono lì a rappresentare l'heritage originale del brand che era focalizzato proprio nella produzione di finimenti, briglie, bardature, selle per cavalli, ma il grosso della fama in realtà vera di Hermès avviene quando un'attrice che si chiamava Janet Birkin si trova sull'aereo e è una storia vera, viene narrata così, ma è vera, quindi casualmente lei si trova nel sedile accanto a quello che all'epoca era il presidente di Hermès e lei stava cercando di mettere la sua borsa all'interno dello scompartimento e faceva fatica, a un certo momento si lamenta con il suo compagno di viaggio tra virgolette che non aveva ancora trovato da nessuna parte una borsa da viaggio che però fosse sia spaziosa, fatta di pelle e che fosse anche il top dell'eleganza, capite qual è il posizionamento nuovo? Il presidente ha detto ah sì, la faccio io e quindi viene creata la Birkin in suo onore, ok perché viene il Giannetto, non mi ricordo, magari ho sbagliato anche il nome ragazzi, scusate, sono così ignorante che magari ho sbagliato il nome, ok, non mi viene, però penso che si chiamasse così se non si chiama così il cognome era Birkin perché non è importante e questa è la Birkin, la Birkin nasce di colore arancione quindi anche il brand di Hermes diventa così famoso attraverso l'arancione poi c'è anche in altri colori diciamo però l'originale, originale, la vera top, il visual hammer è l'arancione in questo caso specifico del brand quindi questi sono gli oggetti iconici che hanno reso Hermes Hermes, ok, quindi con la Birkin, la Birkin voi sapete che viene fatta a mano, devi aspettare cinque anni se la ordini prima che te la consegnano, è come la Rolex c'è un mercato delusato fiorentissimo a dei prezzi assurdi quindi anche l'enorme scarsità i prezzi altissimi hanno contribuito grazie a questa borsa simbolo eccetera eccetera a rendere Hermes uno dei brand più affermati al mondo costosi e desiderati proprio perché la loro strategia è la strategia di shortage ok, cioè di fare in modo che ce ne siano pochissimi pezzi a disposizione molti meno ma moltissimi meno di quelli che sono gli ordini quindi non è importante quanto sei ricco devi aspettare quindi questo è quello che ha reso Hermes Hermes ok e ancora vediamo cosa c'è ah Whitton cosa ho da dire su Whitton Whitton come è diventato famoso allora anche questo Louis Whitton è un altro caso simile del 1854 Louis Whitton è diventato famoso inizialmente per la produzione di bauli di lusso e articoli di viaggio di alta qualità cioè Louis Whitton all'inizio nel 1854 non era famoso anzi per quello di cui è famoso ancora oggi ci sono le valigie di Whitton ok ma all'epoca lui costruisce nasce la sua azienda nasce e lui diventa famoso nel produrre valigie erano valigie di lusso bauli si chiamavano all'epoca baule da viaggio ma noi le chiamiamo valigie ok i bauli di lusso da viaggio ok sa Fio dice non a caso è la borsa che ha la regina Elisabetta certo poi dopo è diventata famosa per essere la borsa più ambita nel mondo anche perché ha dei prezzi assolutamente folli ok quindi Louis Whitton nasce ok quindi si distinta nel settore valigie per la sua capacità di creare bauli resistenti all'acqua e ai danni una caratteristica molto richiesta in un'epoca vittoria 1854 in cui i viaggi erano spesso difficili e disordinati si viaggiava con le carrozze come abbiamo visto prima con Hermès eccetera eccetera quindi la fama di Louis Whitton poi è cresciuta grazie all'introduzione del suo distintivo tela monogramma LV caratterizzato da motivi floreali e geometrici insieme alle iniziali Louis Whitton questo design è diventato sinonimo del marchio uno dei più riconoscibili nel mondo della moto del lusso il visual è diventato proprio quel tipo di logo e chiaramente c'è stata una transizione da quelli che erano i bauli in pelle le valigie in pelle ad oggi alle borse in pelle di Louis Whitton quindi c'è stato questo pivot verso la moda che considerate partiamo di un'azienda che nasce nel 1854 e oggi è famosissimo però da dove prende Horace una volta disse una cosa straordinariamente intelligente disse l'iPhone non avrebbe mai avuto quel tipo di successo se prima non fosse stato preceduto dal successo dell'iPod per esempio e l'iPad non avrebbe mai avuto quel successo se non fosse stato preceduto dal successo dell'iPhone enorme e dal successo dell'iPod prima di lui eccetera qui è lo stesso caso Louis Whitton non sarebbe mai diventato così famoso nelle borse di lusso che fa concorrenza a Gucci tra virgolette oggi come brand da quel punto di vista poi fa anche le scarpe certamente ma stiamo capendo dove stiamo andando bene se non fosse diventato il brand leader in quegli anni in quei decenni delle valigie delle borse da viaggio di lusso non a caso avete visto Hermes che cosa ha creato cioè ha creato quell'incrocio tra borsa da viaggio è diventato famoso perché la Birkin è il primo incrocio di pelle di lusso tra incrocio tra borsa da viaggio e borsa elegante quindi è un Hermes è un Louis Vuitton antelitteram tra virgolette quindi questo è quello che ha fatto Vuitton quindi è sempre stato sinonimo di qualità innovazione lusso nel campo di articoli da viaggio e con il passare degli anni il marchio ha ampliato la sua offerta per includere borse accessori pret-a-portè altro ancora mantenendo sempre l'alto standard di qualità l'immagine del lusso che lo ha reso famoso inizialmente quindi quello che lo ha reso famoso inizialmente è il suo posizionamento e poi lo ha traslato ovviamente come brand di moda anche agli altri accessori anche le altre cose quindi Louis Vuitton diventerà farà estensione di linea quando farà i piumini da paninaro probabilmente magari ci sono anche però non è quello importante capite ragazzi come funziona il posizionamento dei brand quindi i brand anche nella moda hanno sempre hanno sempre hanno sempre un posizionamento di marca molto chiaro poi magari io per primo ho dovuto fare delle ricerche non li conoscevo sono ignorante per me sono un uomo che ne so io dei brand ad hoc che ne so io perché una donna dovrebbe scegliere una borsa di Gucci una di Vuitton una di Yves Saint Laurent se non per mero gusto personale se non per dire mio marito mi ha regalato questa e costa di più frase maschilista ma è per capirsi ok io non ci capisco niente ho dovuto studiare per capire come mai questi brand fossero diventati famosi ma Zara per esempio spostiamoci quindi adesso abbiamo visto brand del lusso ok non è che tutti vogliono creare nella moda per forza brand di alta gamma o brand di lusso quindi Zara come ha fatto a diventare famoso ok Zara è diventato famoso inizialmente per la sua strategia innovativa di fast fashion cioè cosa significa facevano i cinesi tra virgolette dei brand del lusso ok li replicavano ma molto velocemente anticipando e copiando in tempo reale questi quindi non copiavano da una stagione a quell'altra nel senso che Yves Saint Laurent non può copiare Gucci e viceversa perché quando escono escono insieme la progettazione dei capi è partita cazzo un anno prima in realtà quindi non puoi copiare nessuno perché quando arrivi in i negozi è già tardi Zara ha detto no no io aspetto di vedere cosa fanno questi brand e in due settimane li copio ed esco con la mia copia a basso prezzo nei miei negozi ok quindi questa è la strategia posizionamento di Zara quindi questo approccio si concentra infatti vedete sulla rapida produzione e distribuzione di abbigliamento ispirato copiano alle ultime tendenze della moda permettendo un costante rinnovo nelle collezioni in negozio ogni due settimane Zara cambia la roba se non la compri subito sapete che non la trovate più no una delle caratteristiche distintive di Zara ha la sua capacità di reagire velocemente ai cambiamenti delle tendenze di moda e alle preferenze dei consumatori la catena utilizza un modello di business integrato verticalmente che le consente di controllare ogni fase della catena di fornitura la progettazione la produzione la distribuzione e i dettagli quindi loro sono veramente se non lo facciamo non lo vendiamo ok non si sbagliano questo modello che loro hanno interno ha ridotto significativamente i tempi di produzione e ha permesso a Zara di portare nuovi prodotti nei suoi negozi in modo molto più rapido rispetto ai concorrenti tradizionali quindi Zara si è inventato il fast fashion che è di basso costo copio i brand del lusso e faccio uscire la mia roba che è molto simile a loro ispirata al loro stile di moda ma costa un decimo e ce l'hai in una settimana all'interno dei miei negozi e lancio le cose molto più velocemente questo è Zara questi sono alcuni brand ragazzi vi faccio vedere degli anni 80 cioè della moda dei paninari alcuni esistono ancora alcuni la maggior parte sono morti alcuni esistono ma sono completamente ridimensionati ok altri mancano vedete la best company che era di Carpi dietro a casa mia ok ce n'era una marea la Uniform la Avirex la Charo erano tutte la nostra zona Carpi ok tutte quelle zone lì ok Americanino Burlington Henry Lloyd Scott Rival c'erano un sacco di brand alcuni ovviamente sono famosi ancora oggi eccetera eccetera ma questo per dirvi che cosa che esistono alcuni brand in realtà che non è culo ma nascono in realtà per interpretare le esigenze di una subcultura specifica in quel momento quindi negli anni 80 c'era questa subcultura molto forte dei paninari e quindi nascono dei brand che cominciano a produrre tipi di abiti che sono non sono universali sono specifici per quella subcultura e quindi qual è il problema in quegli anni diventi il re del mondo perché questa gente erano dei magliari di Carpi la maggior parte che dalla sera alla mattina sono trovati miliardari perché dico miliardari non credo che sono un boomer ma perché c'erano le lire all'epoca ok poi qual è il problema è che la moda il paninarismo finisce e quindi loro scompaiono cioè quelli che non hanno saputo in realtà rinnovarsi le cinture del ciarro con patacone così chi cazzo se le compra quando è finita la moda capite ragazzi è finito per quel motivo lì quindi finisce la moda e quindi finisce la categoria e quindi muore anche il tuo brand è ovvio che sia così ok quindi questo è il concetto quindi si possono lanciare dei brand quindi il messaggio di insegnamento è che si possono lanciare dei brand legati a una subcultura sapendo che se quella subcultura non è eterna il tuo brand è estremamente legato a loro prima o poi finirà ok quindi per fare un esempio in un altro settore l'Harley Davidson è una marca di moto che è legata estremamente alla subcultura dei biker quindi dei rider americani eccetera eccetera ok visto che quel modo di vivere ok on the road easy rider il film anni 70 sta morendo Harley Davidson sta morendo stanno provando anche loro a fare le moto da enduro hanno provato a fare la moto elettrica ma chi cazzo gliele compra cioè non venderai mai una moto fatta così ma ne manco una ne vendi ne vendono una a loro zia a loro mamma e per quello quello è estensione di linea perché estensione di linea quella roba lì molto peggio che la roba di Ducati che ho detto l'altro giorno che ne possiamo anche discutere quindi non c'è da discutere cioè Harley Davidson nasce per quella subcultura specifica e quindi tu vendi a tutti tutti vogliono l'Harley Davidson vogliono le copie giapponesi c'era anche il film divertentissimo all'epoca quando eravamo ragazzi qualcuno l'avrà visto era Harley Davidson e Marlboro Man ok e si scherzava su queste cose sulle moto giapponesi che copiavano l'Harley Davidson cazzo la vuole voglio l'Harley il mito è l'Harley gli 883 la band famosa italiana con Max Pezzali Mauro Repetto è tornato in vogue in questi giorni ho fatto le interviste in televisione 883 era il nome della moto il nome dell'Harley Davidson che loro da ragazzini sognavano quindi è possibile ragazzi come scorciatoia fare di nascere come capi di abbigliamento che sono legati a una una subcultura quando quella subcultura ok finisce ok finisce e finisce anche tu quindi Marco fa la domanda e come dovrebbe comportarsi Harley Davidson per non fallire non può fare niente in realtà Marco cioè è quello che io spiegavo l'altro giorno anche per BMW Mercedes cioè se veramente senza fare fantapolitica creiamo un immaginario collettivo dove tutti sono costretti a fare l'elettrico e un sacco di brand dato che la categoria autoelettrica è stata creata esiste perché Tesla l'ha creata se entreranno nuovi brand che prenderanno il loro post cioè se entrerà un brand nativo ultimate driving machine e prenderà il posto in realtà di BMW e qualcuno prenderà il posto di auto di segmento di lusso di Mercedes eccetera eccetera se loro non potranno portarsi dietro il brand quei brand moriranno con loro come è morta Nokia Nokia in italiano che non è riuscita a spostarsi nella storia di smartphone come è morta Kodak come è morta Polaroid come sono morti tantissimi brand che cambiando la categoria non sono riusciti a portare il loro brand di là perché il loro brand significava quella categoria è basta e quindi quando quella categoria muore muore e il tuo brand devi accettare che muoia con lei quello che puoi fare come fa l'Apple tra virgolette è diventare un'azienda multi brand per cui nel momento in cui iPhone morirà che è il brand trainante Apple non fallirà se avrà lanciato il nuovo brand che sarà sostitutivo tra virgolette di iPhone in termini di tecnologia io non lo so cosa c'era nel futuro i visori i caschi le lenti a contatto i cipri nel cervello se Apple sarà in grado di lanciare il brand non fallirà chi ha chi invece che ragionare come azienda e brand e categoria ragiona la mia azienda e il brand se quella categoria muore morirà anche il tuo brand e quindi rischi di far morire anche l'azienda per quello nel libro che vi ho detto prima spiega la strategia il futuro delle aziende che saranno in grado di lanciare più brand e di brand che si aggiornano con il cambiare delle cose nessun brand tranne Coca Cola è eterno o Jack Daniel è eterno ma gli altri probabilmente non lo saranno quindi dovete stare molto 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 attenti ok quindi altro passaggio quindi se muore la categoria ragazzi muore anche il brand questo è quello che c'è Harley Davidson se la sua categoria di affezionados non verrà riportata in auge da un nuovo film che Harley Davidson nasce ok legata al film Easy Rider quindi come le scuole di karate si riempirono negli anni quando eravamo ragazzini grazie a Karate Kid quello ragazzi è il concetto ok o guardavamo in televisione Judo Boy e la gente andava a fare Judo quelle cose lì ok quindi o ci sarà qualche evento mediatico che riporterà di moda in realtà quello stile di vita quel tipo di moto Harley Davidson morirà cioè il brand morirà perché morirà non è che si può mettere a fare le moto elettriche o si può mettere a fare le moto da strada non funziona non funziona ok quindi questo è il la maglietta che probabilmente riconoscete tutti che è la maglietta con il fiore della guru ok bene guru di Matteo Cambi che agli inizi ok fine anni inizi 2000 diventa famoso e come diventa famoso in realtà diventa famoso perché utilizza una strategia di marketing che è quella di molto aggressiva quella di regalare le sue magliette attraverso conoscenze amicizie a Milano Marino la banalizza non è andata proprio così ok diciamo regala la maglietta a Bob Bovieri e Bob Bovieri se la mette al bagno a Milano Marittima quindi con il suo giro di amici calciatori e tutto quello che viene dietro veline insomma tutte le grandi conquiste di Bob eccetera e tutti gli amici cominciano ad avere queste cazze per passaparola ok si mettono la maglietta di guru e quindi diventa un brand che improvvisamente decolla e finisce sulla cresta dell'onda poi guru in realtà muore muore perché allora se leggete le interviste a Matteo Cambi muore anche perché lui stesso ammette che ci sono delle bellissime interviste mi sono piaciute molto ho detto io ho passato un periodo dove mi sono arrivati i soldi in mano non sapevo gestire l'azienda o meglio lo dice lui ragazzi gestivo l'azienda come se fosse il mio portafoglio personale spendevo più di quello che avrei dovuto spendere e quindi abbiamo avuto dei problemi ma in realtà quindi bravissimo Matteo che ha fatto questa affermazione corretta insomma non dico coraggioso cioè reale non aveva bisogno di dirlo poter dire sai le cose sono andate male invece lui ha detto no ho gestito male l'azienda come io sempre cerco di dirvi perché mettevo le mani nel cassetto e mi pagavo gli aerei privati le notate l'ha detto lui sono le sue dichiarazioni non sto dicendo niente quindi complimenti a Matteo che ha fatto coming out tra virgolette su questo passaggio in maniera molto chiara che può aiutare anche i giovani a capire come non fare dei casini in realtà il vero problema di questo brand è che è un brand ottimo nasce focalizzato nasce con il suo oggetto di culto ma ha un problema muore in realtà per al di là dei casini che ha fatto Matteo all'epoca con la gestione muore perché non ha nessuna rivoluzione filosofica dietro cioè è solo quello che Orris chiamava lot brand cioè esiste la possibilità ragazzi per mille motivi come la strategia utilizzata da Matteo Cambi per diventare il brand del momento il problema è che diventare il brand del momento il vero segreto dopo è come faccio a togliermi dal problema di essere il brand del momento e diventare un brand che diventa iconico nel tempo e la Guru questa cosa non è mai riuscita a farla perché non aveva realmente una filosofia dietro ok tranne essere in spiaggia è data a Bobbo che se la metteva ok quindi al netto di quello che aspirazionalmente uno lo vede qualche stagione diventa famoso rispetto a tutti i brand che avete visto prima avete visto che il problema di Guru è che rispetto a una delle due regole del posizionamento di marca per i brand della moda nasce su un unico prodotto la maglietta non è il premaretti che ha fatto estensioni di linea certamente quando andate a vedere la Guru poi aveva cominciato a fare altre cose ma non era quello il premio il premio è che non c'era una filosofia di rottura rispetto al passato è una magliettina normale con un fiore quindi è diventato di moda quel fiore lì un pochino ma non è la storia di Witton non è la storia di Gucci non è la storia di Orcia non è la storia dei brand che hanno rivoluzionato combattendo stereotipi che questo stereotipo combatteva la maglietta della Guru niente ok e quindi era condannata a morire quindi questa è la differenza tra un hot brand che nasce e dura per qualche anno provate a pensare la Guru è ma non solo lui ho preso lui perché è l'esempio più eclatante però è come nella musica in tutti i settori sono uguali certo che cosa significa che c'è quante volte cioè se voi andate a studiare la storia ogni anno a partire da quando siamo nati andare indietro andare avanti c'è sempre la meteora nel mondo della musica ok al festival bar perché se lo ricordo c'era sempre questo cazzo di cantante che per una stagione massimo due era Dio in terra e poi dopo due stagioni spariva perché non si vincolava più nessuno perché perché in realtà aveva creato gli avevano probabilmente creato una bella canzone orecchiabile quindi tutta l'estate ok il problema è che non c'era nessuna filosofa cioè non sei gli Iron Maiden che hai rivoluzionato la musica sei i Beatles ok non sei i Rolling Stones non sei niente di tutte queste cose qua quindi non sei metallica non sei gli slip non sei uno che ha apportato una novità reale hai cantato una canzoncina pop normalmente che quell'estate era orecchiabile pensate a tutti i tormentoni degli ultimi anni degli spagnoli, ogni anno c'è uno spagnolo nuovo che rompe i coglioni è la stessa cosa, cioè se tu entri nel pop e fai la tua canzoncina orecchiabile ma non c'è un messaggio dietro non c'è un trasporto, non c'è una filosofia di rottura con il passato o di diversità che tu stai lanciando è semplicemente un bel popettino orecchiabile voi sapete già, ve lo racconto io così lo sapete questa gente sparirà per sempre a meno che non si evolva musicalmente ma se si evolve musicalmente ovviamente diventa così di nicchia tante volte che poi non l'ascolta più nessuno oppure muori, quindi quando sei estremamente commerciale il problema è che duri magari un anno o due poi non funziona più non sei durandurand e anche loro finito una certa wave avete visto, hanno avuto i loro alti e bassi enormi alti, poi i bassi sono tornati, poi non hanno mai più raggiunto il successo che avevano quando rappresentavano le boy band stessa cosa, ok, guru, ecco queste cose qua ok, Luis Miguel sono le boy band sono tutte queste cose qua cioè che durano una stagione ma non c'è un messaggio reale di rottura e quindi non proseguono all'infinito ancora il cioè Sweet Ears cioè Bobo che cosa aveva capito in quegli anni per esempio, lo faccio vedere ha detto cazzo io mi sono messo sta maglietta e ho fatto ricco questo anche perché era un amico mio gli ho fatto sto piacere e l'ho reso ricco ok allora ha detto si è messo con Paolo ma direi che sono amicissimi all'epoca erano anche i due calciatori insomma più forti e più iconici di quel periodo e hanno creato il loro brand ok, il loro brand che è Sweet Ears che ancora oggi esiste mi sembra che Bobo abbia ancora tipo lui e Paolo abbiano il 18% della società quindi non so a che livello sono ancora coinvolti all'interno però so che hanno ancora le quote ed è il brand che ha a che fare con lo stile di vita dei tronisti di uomini e donne del grande fratello di un certo tipo di vita un po' godereccia Milano Marittima è il brand che è su quello stile di vita e dura da tanti anni hanno festeggiato mi sembra i 20 anni da poco una cosa del genere quindi è un brand che a differenza di cui è durato nel tempo perché ha trovato la sua identità su una subcultura tra virgolette di persone uno stile che prosegue nel tempo ok, questo è poi magari bisogna lavorarci però comunque rispetto a Guru ha vinto ok, quindi lui ha lanciato Guru poi ha lanciato il suo il suo ha vinto Guru si è spento ok, perché non ha saputo interpretare realisticamente quel tipo di nicchia quindi ragazzi questo è fine ok, cioè solo qua non è che vi volevo rompere le palle per farvi vedere quindi il punto è che ragazzi nella moda come in qualunque settore comunque in qualunque settore il brand positioning è la regola per la quale le cose funzionano o le cose non funzionano quindi queste sono le regole si nasce all'inizio focalizzazione ok brand che deve salire deve nascere deve partire deve decollare ha una filosofia deve avere un prodotto iconico e deve avere una filosofia enorme di rottura col passato se non hai entrambe queste cose non potrà funzionare non potrà funzionare sei il ben che ti vada sei la band pop dell'estate che l'estate prossima è già sparita ok quindi per creare un brand non è vero che la moda è diversa non è vero che la moda è particolare non è vero che la moda è strana non esistono settori particolari ok quindi finitela con queste cose ok perché se no vado avanti a picchiarvi quindi questa ragazzi a parte gli scherzi è la lezione sul posizionamento di marca per la moda ma per qualunque brand in realtà ma può aiutare l'ho fatta specifica perché può aiutare chiunque sia nella creatività se pensate ai cantanti vi ho fatto gli esempi se pensate ai pittori è uguale ragazzi cioè i pittori diventano famosi per un cazzo di quadro è perché crea un nuovo stile di rottura rispetto al passato i copioni non diventano mai famosi ok e non si nasce con le estensioni di linea nessuna azienda nasce con l'ampia gamma non mi interessa ve l'ho detto se voi entrate oggi dentro una multinazionale vedete che Nike fa un sacco di cose vedete che Armani fa un sacco di cose o se vedete che Whitton fa un sacco di cose voi non vincerete mai così ok voi vincerete se avrete un prodotto iconico è una filosofia di rottura rispetto al passato esempio scemo su di me ragazzi dal 2010 al 2016 quindi per sei anni io ho avuto semplicemente un prodotto che era venditore vincente quindi un corso un prodotto e una grande filosofia di rottura rispetto al passato contro le telefonate a freddo contro lo spam contro i fax contro il porta a porta contro la PNL che in realtà non era la tecnica cioè capite che cosa fa per sei anni qui è chiaro che ho lanciato altri brand come iPhone dopo sei anni che ho conquistato qualcosa ho lanciato un altro brand Marketing Merenda ci ho messo sei anni a lanciare il secondo brand però non faccio come tutti i guretti scappati di casa da Dubai oggi sono esperto di criptovalute oggi sono esperto di marketing oggi sono esperto di infobusiness oh domani ti lancio il corso di copio oh ma guarda c'è anche un corso è chiaro che fai la figura cioè non puoi essere esperto di niente questa esperienza come l'hai maturata che fino a ieri cioè giravi la cucchiara col sugo facevi altro quindi al massimo che puoi fare è avere un pubblico di ragazzini ai quali fai delle promesse assurde e ti seguono ti hanno due soldini ma nessun imprenditore è vero segue queste persone verità o bugia nessun imprenditore è vero da retta a queste persone e quindi ragazzi vale in tutti i settori quello che vi ho detto ok cioè posizionamento è prodotto iconico servizio iconico e filosofia di rottura col passato se volete vincere detto questo ragazzi mi raccomando venite se vi piacciono questi video venite sul canale youtube mettete like ok aiuta mettete like iscrivetevi al canale se non l'avete fatto attivate la campanellina degli avvisi e sotto al video sotto youtube se avete delle domande vedete che le domande io non dico le bugie vi rispondo questo video nasce da una domanda di una ragazza che non mi ricordo adesso come si chiama scrivete le domande non quinciatele scrivete proprio sotto perché appena chiudo mi spariscono ok scrivete le domande sotto al video di youtube io creo i video di risposta e vedo se riesco a darvi una mano ok quindi ci vediamo alla prossima ciao a tutti buon lavoro divertitevi mi raccomando lanciate il vostro brand di moda o di qualunque cosa essa sia e ci vediamo alla prossima ok ciao fermo dove credi di andare te ne stavi andando senza iscriverti al canale vero vedi di non farmi arrabbiare iscriviti subito e attiva la campanellina non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo giusto ciao Grazie a tutti.